Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a parlare delle equazioni. Allora, nella scorsa lezione abbiamo introdotto il concetto di identità, ovvero di un'uguaglianza tra espressioni numeriche e letterali che sia verificata per qualsiasi valore noi attribuiamo alla lettera. Oggi vedremo invece un caso particolare di uguaglianza letterale che invece non è verificata per qualsiasi valore che noi diamo alle lettere e queste appunto sono le equazioni. Lo scopo quindi della nostra lezione sarà quindi di distinguere tra equazioni e identità, identificare i termini di un'equazione e infine tradurre un problema in un'equazione. E veniamo subito alla nostra definizione, ecco, che cos'è un'equazione? Leggiamo insieme, un'equazione è un'uguaglianza tra due espressioni di cui almeno una letterale, quindi ricordo, ho un'uguaglianza o due espressioni, per chiamare l'equazione almeno una delle due deve essere un'espressione letterale, possono essere anche tutte e due ovviamente, che risulti verificata, abbiamo visto nella lezione precedente cosa significa verificata solo per particolari valori attribuiti alle lettere. E per capire meglio eccovi subito un esempio di equazione, no? Abbiamo la nostra espressione letterale 3x più 1 che è uguale a un numero ed è chiaro che questa non è un'identità, cioè se io vado a sostituire alla x un numero a caso non è detto che questa ugualianza sia vera, per esempio se metto a posto della x 0 mi verrà 3 per 0 che fa 0 più 1 che fa 1, cioè 1 uguale a 7 e chiaramente questo non è vero. Questa ugualianza sarà verificata in realtà per un unico valore della x e ci vuol poco per capire che quel valore è duro. Può incontrare diverse terminologie legate alle equazioni. Tuttavia, venite al corso di matematica in italiano, voi fate anche un corso di matematica in inglese e qui dove andrete o avete già affrontato il tema delle equazioni. Quindi è importante che voi siate in grado di trasferire le conoscenze di un corso nell'altro e questo lo potete fare solo se vi impazzonite anche della terminologia in entrambi le lingue. Quindi ho preparato per voi una piccola tabella per aiutarvi a orientarvi nei due corsi. Come vedete qui sulla sinistra ho i termini in italiano, sulla destra ho i termini in inglese. Ecco, io vi suggerisco di copiare questa tabella sui vostri appunti. Non starò a spiegarvi il significato di tutti questi termini in questa lezione, li vedremo più avanti. Comunque, equazione in inglese ovviamente si dice equation, l'incognita si dice in inglese variable. Oggi vedremo anche cos'è la soluzione, detta anche radice, in inglese si dice solution. Più raramente troverete anche il termine root. Poi ci sono dei termini che vedremo più avanti, ovvero delle equazioni che possono essere determinate, indeterminate e impossibile. Determinate in inglese si dice consistent e impossibile si dice inconsistente. In realtà non c'è una terminologia equivalente per le equazioni indeterminate. In inglese variables. Che cosa sono le incognite? In equazione sono appunto le lettere che troveremo in un'equazione, che possono essere una, due o più. Ecco, le equazioni si classificano in vario modo, però la classificazione più importante è quella in base al numero di incognite. Infatti se vedete qui i due esempi che vi ho scritto, 3x più 1 uguale 7 che è l'esempio che avevo fatto prima, è un'equazione a una incognita perché compare un'unica variabile, la x. Mentre quest'altra equazione qui, se x meno y uguale a 5, è un'equazione a due incognite. Vi anticipo già che nel corso di terza media faremo solo le equazioni ad una incognita. È importante anche vedere come possiamo tradurre una frase, un problema espresso appunto a parole, in quella che si chiama una frase aperta, ovvero in un'equazione. Leggiamo insieme. Qual è quel numero che moltiplicato per 3 diminuito di 1 dà come risultato 23? Ed è chiaro che se ci pensate un attimo potete già trovare il risultato, ma ora vediamo come lo possiamo tradurre in equazione. Allora, il numero per ora lo indico con questo spazio vuoto, va bene? Poi ci sostituiamo la variabile. Questo numero deve essere moltiplicato per 3 e quindi ho messo per 3, notate come sto usando il puntino, non la x per i segni di moltiplicazione. Diminuito di 1 significa che al risultato di questa operazione va sottratto 1 e il risultato, quindi devo mettere uguale, è 23. A questo punto, al posto dello spazio vuoto, metto la x ed ecco la mia equazione. Leggiamola insieme. x per 3 meno 1 uguale a 23. Poi vedremo più avanti i metodi di risoluzione, però potete già intuire che la soluzione, detta anche radice di questa equazione, è x. Come anticipato, nelle lezioni successive vedremo i metodi di risoluzione di queste equazioni. Ma per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima da Mr. Boscherini. Grazie a tutti.